Non so se la Milano ha il cuore in ma, ma oggi c'è davvero un grande bisogno ancora di più del volontariato nel senso della gratuità spesa per il bene di una città così complessa, articolata, con tanti problemi, ma a maggior ragione deve ritrovare il senso della coesione, non attraverso risorse esterne che non nascano dalla loro voglia di essere generosamente a disposizione per costruire un bene comune. Oggi come mai c'è ancora più bisogno di persone che vivono il volontariato, come abitare anche una città. Strategicamente ancora più importante oggi, chi si impegna con spirito di gratuità e fa della gratuità un modo di essere nella città, si deve candidare insieme alle esperienze associative a promuovere il bene di questa città, diventare classe dirigente di questa città, perché il volontariato non è qualcosa di supplenza a contare agli altri, è la costruzione della cittadinanza attiva, il partecipare attivamente. Per me, visto che si chiama casa, è molto importante in questo momento avere un luogo dove si incontrano le diversità, si supera l'autoreferenzialità, ci si misura con le nuove sfide che ci sono e soprattutto si porta dentro il grande valore dell'ideale, dell'utopia, del senso del vivere, perché in fondo il volontariato deve riportare dentro una città un gusto di vivere, una speranza che affronta con sé tutte le difficoltà, le attraversa e rilancia un bisogno di futuro.